dal 1890 bolafi azienda protagonista del mondo del collezionismo filatelico numismatico sono alessandro gea e mi occupo del coordinamento dell'attività televisiva bolafi grazie alle vostre richieste siamo da oggi in grado di offrirvi più canali tv e maggiore programmazione perché possiate vederci meglio da tutta italia potete seguirci tutte le sere della settimana dalle ore 21 alle 24 sui canali 139 e 228 del digitale terrestre e su sky 869 il nostro storico canale 127 e sky 825 lo potete seguire il lunedì il martedì e la domenica dalle ore 21 alle 24 ma anche nei poveriggi del lunedì e del mercoledì dalle 17 alle 20 un nuovo canale si aggiunge alla nostra programmazione e il 132 lo potete seguire il lunedì e il martedì dalle 21 alle 24 ma anche il martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 20 per ulteriori informazioni e per vedere tutta la programmazione settimanale collegatevi al nostro sito bolafi.it potete seguirci anche in streaming vi aspettiamo non mancate